a fabrizio bosso il compito di chiudere di concludere nella maniera più bella questi concerti della quattro giorni dedicata al jazz qui a messina come andata stasera forse volevi suonare di più no no quello però un po somma c'era questo concerto in quasi in concomitanza quindi abbiamo dovuto suonare un pochino di corsa però bello sono felice di essere stato qui ho suonato con dei grandi amici e straordinari musicisti sono tornato a messina che mancavo da un po e vorrei suonare di più in sicilia perché è una terra talmente bella vorrei anche riuscire a venirci in vacanza però per fortuna o purtroppo insomma non c'è tanto tempo quindi la serata continua perché comunque c'è questo jazz club che è un po insomma il momento di godimento massimo per i musicisti perché c'è assoluta libertà sì c'è questo ritrovo dove insomma si beve si mangia ancora un po e si suona insomma chi ha voglia di suonare suona cioè non c'è l'obbligo di suonare questa è una cosa bella suoni veramente se hai voglia come è andata rispetto al pubblico stasera cosa hai sentito ma benissimo ho trovato un pubblico molto partecipe insomma sentivo che avevano voglia di ascoltare musica poi c'è stato prima un altro bellissimo concerto di nello toscano insomma mi dispiace solo di aver fatto questa toccata e fuga perché sono arrivato oggi domani mattina devo partire spero un prossimo anno di riuscire a stare qualche giorno e godermi l'atmosfera di questa bella città va bene allora ti aspetteremo anche noi grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti